Sindaco, oggi si ricorda una delle piaghe più terribili di questa Sicilia, il 33esimo anniversario dell'uccisione del generale Carlo Alberto della Chiesa e della moglie Emanuela Setti Carraro. Sì, oggi vogliamo ricordare oltre che il generale della Chiesa e la moglie, vogliamo ricordare anche Domenico Russo e l'altro agende che seguiva la macchina guidata dalla Setti Carraro. Lo vogliamo fare perché vogliamo proseguire il nostro cammino di legalità che abbiamo già con tantissime iniziative svolte negli anni impegnato il nostro comune e la città di Favara. Ricordiamo questi momenti come momenti di crescita perché questa città non può che non seguire con grande attenzione tutti i movimenti che si muovono nella Sicilia e nel resto del paese perché tutta la nostra terra di Sicilia diventa terra di legalità, terra di pace, terra di amore e terra di fratellanza. Ecco perché abbiamo invitato anche il sottosegretario di Stato alla difesa, l'onorevole Caruso, parlamentare nazionale, Niccolò Mannino e Salvo Sardisco, presidente e vicepresidente del Parlamento della legalità. Perché vogliamo riaffermare questo grande concetto. Io li ringrazio per la loro presenza, spero che la città di Favara, e sono convinto che così sia, trarrà vantaggi da questa iniziativa di oggi. Onorevole Rossi, oggi si ricorda un sacrificio, un servitore dello Stato. Sì, credo che il generale della Chiesa sia stata una delle massime espressioni di servitore dello Stato nell'ambito della storia di questa Repubblica. È quello che non dobbiamo mai dimenticare, ma soprattutto abbiamo il dovere di tramandare il suo messaggio. Ecco perché cento giorni per morire è una vita per non dimenticare. Assolutamente sì, perché credo che andando ad analizzare la vita del generale della Chiesa andiamo a vedere una figura che fin da quando è stato partigiano all'interno della Seconda Guerra Mondiale ha ispirato il suo essere a quelli che sono dei principi indelebili che dovremmo sempre ricordare a tutti. E cioè senso del dovere, spirito di sacrificio e soprattutto spirito di servizio verso gli altri anche fino all'estremo sacrificio. È cambiato qualcosa da 33 anni a questa parte? Sì, credo la consapevolezza dello Stato che senza lo Stato la mafia non si vince. Presidente, quale significato, quale valenza assume questo incontro culturale di oggi? È un modo per continuare a non dimenticare. Quando viene ucciso dalla Chiesa, quel luogo, via Sidero Carini, spuntò una scritta, qui muore la speranza dei siciliani onesti. Anche dopo la strage di Capace e Via D'Amelio, nonno Nino Caponneto che come ha fondato il Parlamento e la legalità, disse tutto finito. Ma è stata la disperazione di un momento, perché se poi pensi all'affetto dei ragazzi, all'affetto dei giovani, dei bambini, da tanta gente onesta che non chiede ma ti fa capire chi ha bisogno del tuo sostegno e del tuo incoraggiamento, allora io dico che oggi da Favara parte una sfida, una sfida grande perché abbiamo un uomo dello Stato, abbiamo tanti sindaci, tante autorità, tanta gente che ci crede e vogliamo proporre quello che è un percorso alternativo. L'egalità non è dire io sono contro la mafia, per carità, lo siamo tutti, ma noi dobbiamo dire oggi da quale parte stiamo, quindi essere a favore della vita e come disse dalla Chiesa a quello studente a Palermo, gli disse ma lei è venuto qua ma perché vuole sconfiggere la mafia, guardi che lo fanno fuori. Lui disse io lo faccio perché la sera voglio avere il coraggio di guardare negli occhi i miei figli e dire ho fatto il mio dovere. Io invito la gente a fare il proprio dovere ed essere gente che pensa al positivo. Allora questa manifestazione è un po' di traccia. Onorevole Caruso, qual è il messaggio che si vuole lanciare attraverso questo incontro culturale di oggi a Favara? Il messaggio che si vuole dare è uno che è semplice, che lo Stato c'è, che questa è una democrazia, lo Stato è un'espressione di questa bella democrazia e la democrazia è fatta di persone e persone sono l'elemento che va messo più a centro di tutto quello che è il contesto territoriale perché noi dobbiamo ritrovare la nostra via di legalità, di risorse, di sicurezza andando a dialogare con la gente, mettendo a centro di tutto la gente perché da lì la gente è l'espressione di tutto, un governo è la gente che lo esprime cioè se noi non riusciamo a dialogare con la gente abbiamo sbagliato tutto cioè dobbiamo riprendere a dialogare con la gente e questo è il messaggio che si vuole dare che lo Stato c'è, che non soltanto lo Stato c'è ma c'è tanta gente anche che fa parte di questo meccanismo legislativo e parlamentare c'è perché noi appunto dobbiamo essere l'input da dare alla gente comune dicendo ritornate a credere in quello che è la democrazia in quello che è la politica perché soltanto in questi aspetti, perché la politica fa tutto fa le leggi, fa i governi e dà l'input a tutto quello della nostra società civile questo è un segnale che si può dare partendo da cose semplici ma fondamentali per dare veramente un segnale e fiducia a tanta gente che ci guardano e non sanno più dove andarsi a collegare io dico colleghiamoci in quello che è l'aspetto legale e sicurezza e crediamo in questo Stato perché se non crediamo nello Stato non crediamo a noi stessi